No, non ti vedo, non ti vediamo, però credo che tu abbia girata la telecamera. Aspetta, aspetta. Sì, hai la telecamera, devi metterla come per fare i selfie. Sì, perché io sono sempre uno inabile, capito? Aspetta, ah, mi vedi adesso? Ce l'abbiamo fatta. Ah, ce l'abbiamo fatta, dai. Ci abbiamo messo sette ore, ma ce l'abbiamo fatta. Mi ha scritto anche Nicola Attario per dire, ma che succede? Succede che io sono inabile con la tecnologia. Io sono l'uomo del Medioevo. E infatti, il Medioevo insegna all'Università dell'Aquila, giusto? Sì, sì, esatto. Esatto, sei esperto in storia medievale, scrivi libri, sei uno storico. Noi ci conosciamo da anni. Come? Noi ci conosciamo da anni. Noi sei venuto varie volte al Festival Voci della Storia a Seregno, qui da noi. Avrei presentato parecchi libri, anche alcuni per i bambini, ti ricordi? Sì. Che bella questa giornata. Sì, infatti. Bellissima. Bellissima. Invece questa sera presentiamo il tuo ultimo libro, nuovo libro però, dai, non mi piace l'ultimo. Che è uscito proprio qualche giorno prima che cominciò ad essere disastro. Esatto, che è rimasto un po' chiuso dentro nelle librerie e quindi ha bisogno di essere un po' diffuso. Però ti do una bella notizia perché la libreria Un Mondo Libri ha ottenuto il permesso di fare la vendita a domicilio, la consegna a domicilio dei libri. Quindi per coloro che si connettono questa sera con noi e volessero ricevere questo bellissimo libro che si intitola I nemici degli italiani, edito dalla terza, possono richiedercelo tramite Instagram, Facebook e Whatsapp e noi glielo portiamo a casa. Perfetto. Anzi, ogni famiglia 10 copie, no? Sarebbe bellissimo. Eh, per favore, così si fa. Se si compra, si compra un libro, si diffonde bene. Poi per Pasqua si regala. Certo. Allora, questo libro io so che l'hai scritto, c'è stata una partecipazione di un altro storico che è un altro nostro amico che è Alessandro Vanoli. No, mio carissimo amico, che è uno dei migliori storici italiani, nonché uno scrittore di vaglia, che è Alessandro Vanoli. Non so se adesso ascolta qui, insomma, ha partecipato direttamente alla stesura di questo libro, che poi abbiamo anche tradotto in una versione, diciamo così, spettacolarizzata, che abbiamo, con la quale abbiamo aperto il Festival della Storia a Napoli a febbraio. Eravamo animati da bellissime intenzioni a buonissime intenzioni, poi è successo quello che è successo. E speriamo di riprendere questa iniziativa molto suggestiva, perché non siamo soltanto in lui, ma c'è anche una cantante, nel caso specifico c'è una cantante napoletana, che si chiama Dolores Melodia, e un chitarrista eccezionale che è Carlo Mascilli Migliorini. E quindi era un gruppo affiatatissimo, soprattutto con Carlo abbiamo fatto già molte cose, io, Alessandro e Carlo in passato, sugli oggetti del Mediterraneo, con un libro che abbiamo scritto assieme ad Alessandro, e poi invece abbiamo proposto questa modalità tutta nuova di raccontare la storia, cioè attraverso uno spettacolo. Bellissimo, sai che mi piacciono molto queste cose. Eh, questa è una cosa che anche a Seregno, secondo me, potrebbe funzionare. Esatto. Alessandro è un nostro carissimo amico, tra l'altro avevamo in programma per il 13 marzo un appuntamento con lui, che abbiamo ovviamente dovuto... Eh, lo so, lo so, lo so, perché ho parlato con Alessandro, quindi ci sentiamo, non dico quotidianamente, ma quasi. Bene, questo libro si legge esattamente come un romanzo, e io penso che fosse un effetto voluto il vostro, il tuo, di leggere questa storia d'Italia proprio come fosse un romanzo. In questo periodo in cui, appunto, siamo attaccati da un nemico invisibile, quanto mai preciso, puntuale questo libro, i nemici italiani, gli italiani oggi hanno un nemico invisibile da combattere. Sì, è un nemico un po' diverso da quello che abbiamo descritto noi, cioè non è un nemico evidente, è appunto un nemico invisibile, impalpabile, però micidiale, che è stato in grado di mettere in ginocchio nel giro di due mesi la civiltà più tecnologica che abbia mai abitato sulla Terra. Quindi ci dà anche un po' la misura, ci dà sicuramente la misura della nostra fragilità, del fatto che noi siamo comunque delle briciole su questo pianeta in viaggio nell'universo, e che ci sono degli organismi viventi a metà fra la chimica e la biologia, come può essere un virus, che insomma ci hanno veramente troncato le gambe, ci sta troncando le gambe, gli effetti li vediamo. Bisogna aggiungere che per l'Italia, e non solo per l'Italia, non è la prima volta che il nemico sia così impalpabile, così invisibile. Insomma, la nostra storia è piena di storie di questo tipo, basta pensare soltanto a quello che è successo nel 68, la famosa epidemia che c'è stata nel 1968, oppure ancora peggio la spagnola tra il 19 e il 20, e poi andando dietro nel tempo, le grandi pandemie. Quello che colpisce di tutta questa vicenda è la portata globale. Non si parla mai di qualcosa di limitato nello spazio, di limitato a livello regionale, ma è qualcosa che invece ha una caratteristica mondiale. E lo stiamo vedendo, come stiamo vedendo anche quali sono le diverse maniere di rispondere e di reagire al nemico. L'Italia ha avuto una sua modalità che nasce anche dalla sua cultura del nemico. Una cultura ben diversa da quella che hanno altre nazioni. Lo stiamo vedendo proprio in questi giorni con il forte sconto con l'Europa settentrionale, un'idea della solidarietà nostra che è diversa, che ha altre radici culturali. Non dico che migliori o peggiori, ma ha altre radici culturali. E nasce dalla nostra storia. Mi era piaciuto, leggendo il tuo libro, un passo che adesso volevo leggervi, che in realtà è di Paolo Diacono, che mi ha riportato un po', lui parla dell'istoria Langobardorum, però l'immagine che ne viene fuori è un po' l'immagine di quello che stiamo vivendo noi adesso. Ed è, lui dice, Era come se il mondo fosse tornato al grande silenzio delle origini. Nessuna voce nei campi, nessun fischio di pastore, nessuna insidia di fiere tra il bestiame, nessun danno per i domestici uccelli. Le messi, che già avevano passato il tempo d'essere mietute, aspettavano intatte il mietitore. La vigna sulla quale cadute le foglie e le uve rosseggiavano, rimaneva illesa mentre già si avvicinava l'inverno. Sia nelle ore del giorno che in quelle della notte, risuonava la tromba di guerra, da molti si odiva come il fragore di un esercito. Nessuna traccia di viaggiatori, non si vedevano i briganti. I luoghi dei pastori si erano trasformati in sepoltura ad uomini, le abitazioni degli uomini erano divenute tane per fiere. Sì, è un'immagine terribile, suggestiva e terribile, quella di Paolo Diacono. ci riporta a un clima particolare. Anche questa legata ad una crisi sistemica, una crisi epocale, come quella dell'epoca che va grossomodo dalla fine dell'impero romano e il VI e VII secolo, il periodo dell'invasione Longobarda. Quello che colpisce di quella crisi, come ci deve fare riflettere anche sulla nostra crisi, che si tratta sempre di crisi sistemiche. La nostra crisi non è una crisi soltanto legata al fattore pandemico, ma è frutto di una congere di elementi, di un'articolazione, di una complessità, dove il problema finanziario va insieme a quello climatico, dove il problema della pandemia va insieme al problema delle risorse o alla crisi, al declino della globalizzazione, eccetera. Anche in questo racconto di Paolo Diacono, scritto in maniera così icastica, per dire, in maniera così chiara e evidente, quello che viene fuori è questo fatto terribile per la storia italiana di quell'epoca e dell'Europa di quel tempo. C'è questa sorta di irruzione della preistoria nella storia. Cioè la regressione futtale nel periodo Longobardo, dovuto anche a questa, non solo alla grande guerra, al grande scontro fra Bizantini e Goti, ma alla irruzione della pestilenza, quella che si chiama la peste giustinanea. Quello che è interessantissimo, però è come la regressione fosse stata così violenta e così radicale e drastica che una persona che si fosse presentata nelle stesse zone italiane, una persona che avesse vissuto durante l'epoca degli Antonini oppure intorno al secondo secolo dopo Cristo e si fosse fatta una passeggiata per l'Italia quattro secoli dopo, avrebbe trovato un panorama, un paesaggio completamente, completamente mutato. Non avrebbe conosciuto, non avrebbe riconosciuto i connotati di questa Italia. Distrutta nello stesso tempo da un nemico invisibile e da nemici visibili. I Goti e i Bizantini e poi sopravvengono i Longobardi. E la distruzione è tale, se si pensa, per esempio, nel momento in cui i Bizantini arrivano a Roma nel corso della guerra greco-gotica, questa è una cosa che con Alessandro abbiamo scritto, e praticamente Roma, che era tre secoli prima, aveva un milione di abitanti, quando arrivano le truppe bizantine, trova una popolazione ridotta a meno di un migliaio di persone. Cioè, lo shock demografico è tale che veramente poi il paesaggio ricade nella natura. Un po' un effetto, non è così stridente, che stiamo vedendo oggi, gli animali che tornano nelle città, gli uccelli che sono scomparsi, l'assenza e l'inquinamento. In quel momento là, chiaramente, questo effetto è molto più radicale, molto più incisivo. Ed è interessante che gli stessi contemporanei si rendano conto e valutino direttamente le conseguenze di quanto sta accadendo. Cioè, i contemporanei, prima, diciamo, al momento dell'invasione di Longobarda del VI secolo, praticamente, cominciano a vedere i cadaveri delle città distrutte, li chiamano. Perché è un mondo che è completamente cambiato ed è ricaduto nella condizione primitiva. Adesso qual è il problema? Che loro, i Longobardi, in realtà, loro non si aspettavano di trovare questo mondo, pensavano di trovare un mondo bellissimo. No, sicuramente rispetto al mondo da cui venivano loro è un mondo bellissimo. È un mondo più, molto più favorevole di quello che potevano trovare in Pannonia o nelle zone interne della Germania. Questo è evidente. Le possibilità che dà l'Italia, che ha dato a tutti gli invasori dell'Italia, l'Italia è sempre stata questa. Cioè, l'Italia è rappresentata un molo naturale, un approdo naturale più ricco climaticamente da un punto di vista paesaggistico, da un punto di vista delle risorse del territorio. E rappresentava sempre una sorta di Eldorado. Questo è un leitmotiv che ritorna sempre. Pensiamo alle guerre franco-spagnole del Cinquecento, il sogno francese dell'Italia. c'è sempre questa tensione di andare verso l'Italia in quanto punto di approdo favorevole, felice. Per esempio, quando i normanni arrivano nell'undicesimo secolo è straordinario perché loro arrivano e vanno in Sicilia, arrivano da una porzione di Europa molto più arretata, sottosviluppata e arrivano in un mondo di città molto più ricco. la Sicilia all'epoca era una delle perle del Mediterraneo. Esatto. Intanto io saluto i nostri amici che ci stanno seguendo. Grazie di partecipare in questi pomeriggi tediosi. Così tediosi. Fortunatamente c'è il sole in questo periodo quindi il pomeriggio passa un po' meglio che settimana scorsa. Perché che è successo? Sì, le notizie erano di gran lunga peggiore la settimana scorsa. E poi faceva freddo quindi noi invece stiamo vivendo qui a Roma una lunga primavera una fantastica e lunga primavera che è cominciata praticamente a dicembre che è molto bizzarro. Dicevi Eva? No, allora dicevo questi nemici questi conquistatori dell'Italia che si sono susseguiti nei secoli poi che cosa ne è successo? Nel senso ci siamo amalgamati ci siamo integrati come dopo queste conquiste la società si è trasformata ed è emersa una nuova società? Praticamente il gioco con Alessandro che proponiamo in questo libro che non vuole essere chiaramente un libro esaustivo della storia d'Italia è un racconto di un pezzo della storia d'Italia non è che si esaurisce qui la storia d'Italia nei racconti di questi amici ma il gioco è questo che è un gioco però reale che nel corso del tempo nella storia italiana c'è sempre stato un susseguirsi di invasioni a differenza di quanto per esempio succede in Francia oppure è successo per la storia spagnola l'Italia invece ha avuto sempre questo susseguirsi di invasioni di gente che è entrata con violenza sul territorio e poi in una misura o in un'altra si è assestata su questo territorio ed è stata assorbita da questo territorio diventando poi a propria volta il nemico di un altro invasore che è venuto successivamente l'esempio di Longobardo è quello che si sposa meglio è quello che meglio di tutti rappresenta questa cosa perché loro scendono come invasori una popolazione non dovranno essere milioni e milioni di abitanti ma è una componente abbastanza piccola il che dà anche la misura dello shock demografico il fatto che loro pur essendo insomma una popolazione ridotta di qualche centinaio di migliaia di persone uomini donne e bambine non soltanto guerrieri entrano in questo territorio e lo conquistano perché non c'è nessuno praticamente a difenderlo o quasi nessuno a difenderlo l'impero bizantino non ha più la capacità di farlo questi che si insedono nel territorio che diventano parte del territorio che si amalgamano con le popolazioni locali che incidono sulla popolazione locale da un punto di vista linguistico fortissimo gli apporti della lingua Longobardo sono fortissimi nella nostra lingua quotidiana poi vengono a loro volta spazzati via quando arrivano i carolingi quando arriva Carlo Magno praticamente è come se questa presenza a Longobarda scompare completamente almeno da un punto di vista istituzionale sembra proprio scomparire come se avvenisse una sorta di pulizia etnica che in realtà probabilmente non avviene questi vengono assorbiti vengono annichiliti da un punto di vista politico ma restano sui territori ne caratterizzano il territorio gli danno il nome al territorio che diventa la Longobardia la Lombardia e la cosa interessante è proprio però questa che loro da invasori diventano invasi il gioco sta tutto qui il gioco che abbiamo inventato con Alessandro è stato questo che cosa lasciano che cosa hanno lasciato nella nostra nella nostra storia ma soprattutto nella nostra vita sicuramente incidono tantissimo nella nostra cultura nel nostro linguaggio non penso soltanto ai Longobardi Longobardi pienissimo il nostro vocabolario di termini come guancia panca zaino stronzo è anche un nome Longobardi questo lo dico sempre eccetera che quindi noi quando lo usiamo parliamo Longobardo ma nello stesso tempo incidono anche sul nostro DNA cioè sulla nostra costituzione fisica e biologica e noi in fin dei conti siamo non apparteniamo ad un ceppo eterno come pensavano durante il fascismo i redattori della rivista La Difesa è la razza no la nostra non è un'identità razziale eterna non esiste una pura razza italiana ma esiste appunto questo coagulo di tante 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 sfaccettature che sono presenti nei nostri corpi sotto la forma di un femore il colore degli occhi il colore dei capelli e così via e se penso che scusa Eva dicevi penso che mio nonno lui sono nati due gemelli aveva un gemello sono nati insieme ma mio nonno alto biondo occhi azzurri le fattezze teutoniche e il suo fratello basso grassotello col naso adunque i ricciolini neri come fosse avrà giocato avrà giocato appunto il DNA in una maniera veramente veramente considerevole cioè questa commistione questa questa unione di tanti elementi alla fine costruisce un una razza fa virgolette italiana che è la la fusione di tutti questi aspetti e non è molto più bello cioè avere una varietà piuttosto che essere figli di un'identità singola che porta poco al gusto al piacere degli occhi o quello che è questo fa parte della nostra varietà fa parte della nostra storia ed è chiaro che questo è una componente un elemento interessante che viene fuori che è venuto fuori da questo libro che però non l'abbiamo né io né Alessandro ce ne siamo accorti al momento però poteva essere un leitmotiv di tutto il libro è che anche in epoche recenti il nemico che viene da fuori viene sempre chiamato identificato come barbaro si viene sempre detto barbaro l'austriaco nel corso della prima guerra mondiale è il barbaro il francese che arriva con Napoleone è il barbaro i lanzichenecchi che vanno a sediare e Roma sono barbari e si usano topos e si usano modalità per descriverli e rappresentarli che sono quelle della cultura classica la cosa più bella è che il barbaro per eccellenza il primo barbaro per gli italiani sono i romani per quelli della Magna Grecia i romani non erano degli esseri subumani ma erano mezzo umani mezzo barbari anche loro e quelli della Magna Grecia e i greci in genere nel corso anche dell'impero romano ma lo fa anche San Paolo tesero sempre a dire noi siamo greci voi siete romani c'è una distinzione antropologica culturale fra di noi voi comunque siete sempre di serie B ma i romani sono capire come siano percepiti è difficile dirlo però furono i primi grandi aggressori degli italiani con la reazione poi di questa di questa grande organismo terribilmente ampio che fu l'impero romano allora rispondo a un ragazzo che chiedeva di che cosa parliamo del libro di Amedeo Feniello i nemici degli italiani quindi però volevo tornare ai romani i romani però si fecero a loro volta totalmente conquistare dai greci perché la cultura divenne ecco brava questo è l'elemento questo è l'elemento di fondo quanto giochi l'apporto di chi c'è già nell'influenzare coloro che aggrediscono gli invasori questa è una cosa che per esempio è molto chiara in un personaggio che ha un ruolo importante nel mondo goto che è un romano che è Cassiodoro ma c'è sempre questa tensione cioè colui che viene conquistato però ha delle capacità degli atu delle peculiarità delle sue originalità che riesce ad esprimere e alla fine ad imporle per un maggior grado di sviluppo per un maggior grado di civilizzazione per il fascino delle cose che racconta e che dice con i romani questo è molto evidente i romani conquistano in maniera violenta l'Italia il sud Italia della Magna Grecia viene completamente spazzato via dal assorbito dal mondo romano in maniera violenta basti pensare all'assedio di Taranto oppure quello che succede nel corso delle guerre puniche dopodiché si ha un'inversione i romani restano affascinati da questo magnifico mondo greco e apprendono qualche cosa che non faceva parte del loro DNA cioè la cosa più bella del mondo che non c'era che era l'espressione dell'amore la poesia la letteratura non c'era nel mondo dei romani dell'inizio praticamente se uno va a leggere la storia della letteratura latina rimane stupito di come non esistano forme di poesia ne saranno esistite sicuramente da un punto di vista dell'oralità ma quello che è arrivato fino a noi o sono norme giuridiche oppure sono canti militari nella maggior parte ma niente che esprima qualche cosa di personale di intimo e invece nel rapporto con la grecità a un certo punto dopo alla fine della guerra punica comincia a nascere questa letteratura romana che prima non c'è bellissimo si forma perché c'è questo apporto greco fantastico che modifica lo statuto intimo del romano Orazio questo lo scriviamo nel libro Orazio lo dice in una maniera straordinaria che che in soldoni dice coloro che conquistarono poi furono conquistati dalla bellezza della Grecia questo significa tutta una serie un quacervo enorme di elementi che vanno dalla letteratura alla spiritualità i culti dionisiaci la forte impronta che arriva da Oriente nuovi culti nuova cultura una nuova idea del dominio del comando Nerone per esempio era affascinato da questo è uno che è affascinato da un'altra impostazione e vedere in maniera diversa le cose non è uno che non si sente quasi più romano si sente ellenico si sente alessandrino perché ha assorbito tutta questa cultura e questo gioco continuo che c'è questo continuo alternarsi fra aggressori ed aggrediti nel cambiamento di ruolo nella modificazione di ruolo apporta degli elementi di novità all'Italia e ripeto è un gioco è una chiave di lettura leggera che noi abbiamo adottato ma può essere una chiave di lettura per spiegare in un altro modo da un'altra angolatura questa complessissima articolata storia italiana venendo un po' oggi visto che parlavamo di nemici e vabbè a parte il nostro covid-19 che ci terrà compagnia tra virgolette ancora per un po' e che sta cambiando totalmente la nostra vita quali altri nemici tu quali altri nemici può avere l'Italia in questo momento oltre al coronavirus ma sai è difficile dirlo perché siamo in un momento di grande mutamento ed un mutamento estremamente rapido quello che mi colpisce è che spesso nella storia anche strutture di lungo periodo che sembravano così radicate sono state spazzate via nel corso di una brevissima stagione io stamattina per esempio spiegavo ai miei studenti la funzione del cristianesimo in occidente qual è stata la presenza tutta la costruzione del mondo tutta l'idea del mondo fondata sulla teologia non c'era nient'altro che non fosse fondato su questa enorme impalcatura teologica dove c'era un punto di riferimento secco che era la Bibbia ebbene questo mondo che è durato anche nelle nostre zone fino agli anni 50 per molti versi se vai ancora nelle zone rurali nei paesi del sud Italia era ancora forte questa presenza questa incombente presenza del mondo del mondo cattolico basta vedere un film come Pan Amore e Fantasia e leggere il ruolo del prete intorno al quale poi e tutti quanti si vanno a rivolgere a lui per chiedere consiglio sapere che cosa bisogna fare perché era una figura centrale all'interno della comunità perché era quello che dava le coordinate spirituali e morali questo mondo è stato spazzato via nel giro di dieci anni dal 55 al 65 questo mondo praticamente quasi non esiste più eppure è un mondo che è durato più di mille anni allora il grande rischio in questo momento qui è che non dobbiamo avere tanto paura a mio avviso dei nemici esterni si profilano ne parlavamo pure noi l'altro giorno si profilano le grandi minacce nuove di un ribaltamento geopolitico non più gli Stati Uniti come polo di riferimento ma questo nuovo asse russo-cinese no? parlavamo di questo è un elemento nuovo delle immagini simboliche da nuovo piano Marshall con gli aerei russi che arrivano gli aerei cinesi che arrivano ma quello che su cui io sottolineerei con maggior forza è un altro aspetto è che non dobbiamo considerare che le nostre conquiste la libertà in generale e la democrazia in particolare non dobbiamo pensare che sono cose assunte una volta e per tutte e che per sempre dureranno si tratta di conquiste lente che si sono radicate nel procedere del tempo dal 600 in poi c'è gente che ci ha lasciato le penne sul rogo tipo Giordano Bruno o Michel Serveto per manifestare che esisteva un mondo diverso rispetto all'impostazione teologica esistevano forme di libertà esistevano forme di tolleranza pensa Spinoza e la maledizione di tutta la comunità ebraica a Amsterdam che era comunque una città tollerante e Spinoza che viene completamente radiato dalla comunità con questo Erem questa maledizione terribile per la quale lui non poteva neanche salutare più la sorella per strada cioè lui non poteva avere più nessun tipo di rapporto neanche un cenno con nessuna della sua comunità di provenienza eppure questi sono stati gli artefici di un cambiamento sono state le cellule di una grande rivoluzione politica ideologica culturale che noi chiamiamo democrazia che chiamiamo tolleranza che chiamiamo però queste non è che sono conquiste che noi una volta che l'abbiamo ripeto l'abbiamo raggiunte sono tali per sempre cioè noi oggi dobbiamo diventare sentinelle rispetto a tutto quello che sta succedendo oggi nelle limitazioni delle libertà in una super burocrazia che nessuno elegge che decide però dei nostri destini la super burocrazia di Bruxelles chi l'ha eletta? La Lagarde non l'ho eletta io no nemmeno io questo è un problema centrale all'interno di una discussione su quelle che la preservazione di quelli che sono i fondamenti cioè da qua a dieci anni il grande problema nell'immaginare il futuro nel costruire il futuro sarà porsi le base e dire innanzitutto non ci toccate i fondamenti e poi discutiamo sul resto e innoviamo sul resto e quindi andiamo a vedere quale devono essere le reazioni nel caso del virus è meglio la sanità pubblica o la sanità privata eccetera però il primo elemento di fondo sul quale bisogna ragionare e deve diventare un elemento centrale della discussione politica è alcuni fondamenti non si toccano le libertà civili vedi Eva c'era mi viene in mente un grande antropologo franco americano che diceva una cosa molto interessante diceva la fase delle libertà dell'emancipazione della donna per esempio è una fase minuscola nell'azione dell'umanità è durato molto di più il cannibalismo è durato molto di più l'antropofagia è durato molto più la violenza come sistema di vita è durato molto più lo schiavismo rispetto alla democrazia che è qualche cosa che appartiene a un segmento non soltanto cronologico piccolo ma che appartiene anche a un segmento piccolo della popolazione mondiale eh sì quindi la prima cosa da fare anche rispetto a quello che succede oggi stiamoci attenti e diventiamo sentinelle nell'immaginare questo futuro che verrà che sarà diverso dopo il covid-19 ma immaginiamo un futuro diverso fatto è basato su degli elementi di discussione che preservino delle cose di fondo delle carte di diritti universali che già sono discutibili oggi però sono dei fondamenti della nostra della nostra della nostra società del nostro modo di del nostro orizzonte di senso diciamo così quindi per vincere questa nuova battaglia dobbiamo essere resilienti resilienti come società non semplicemente come persone ah guarda hai usato il termine giusto io fino a un paio di anni fa non soltanto non conoscevo questo termine ma quando lo sentivo neanche mi piaceva però ci ho ragionato anche per un altro lavoro di una storia mondiale che ho scritto che è uscita qualche mese prima è uscita a dicembre mentre questo libro è uscito a febbraio il punto è proprio quello della resilienza cioè sicuramente la storia non è maestra di vita la storia non ti insegna niente se avessi avuto la capacità di insegnarci qualche cosa saremmo tutti quanti persone migliori invece continuiamo a fare i stessi sbagli continuiamo a fare i stessi errori anche queste cose che stanno succedendo negli ultimi giorni ci dicono che è così però una cosa la storia ce lo dice cioè ci dà la misura di alcuni comportamenti il comportamento resiliente delle società è un comportamento vincente cioè i gradi di resilienza possono essere diversi nel caso per esempio dopo la peste giustinanea la resilienza è pari a zero è una società rigida che non ha capacità di innovare e a quel punto si trova mandata fuori spazzata via e deve ricominciare da capo e per tornare un'altra volta agli equilibri precedenti ci vogliono sei secoli non un anno bisogna arrivare al 1200 per trovare un'altra volta una situazione di equilibrio ma se ragioni invece sulla peste del 300 e ancora più sulla pestilenza e sul grande mutamento climatico quello che si chiama la piccola glaciazione del 600 questo viene da fuori ancora con maggior valore perché di fronte alla grande crisi d'ansiericino la grande crisi diciamo feudale dove per esempio non si poteva più campare soltanto con la produzione del grano perché faceva troppo freddo e il grano non lo potevi coltivare anche in zone dove per secoli si era coltivato come ha risposto l'umanità ha risposto con la resilienza e con una un aumento dell'articolazione produttiva economica e sociale è diventato un mondo molto più complesso non c'era il grano si vanno a prendere le patate nasce un mondo completamente nuovo di relazioni economiche completamente nuove c'è un problema per le risorse perché non c'è il legno per fare per riscaldare le macchine a carbone le macchine a vapore si scopre il carbone si usa il carbone cioè nasce tutto questi sono soltanto degli esempi ma nasce tutto una risposta che è talmente pervasiva e complessa che permette all'umanità di fare non soltanto di sconfiggere la crisi ma di fare un passo avanti la risposta della crisi climatica del seicento e della peste del seicento che aveva misure ed effetti ben diversi da quelli di oggi si chiama scienza chimica studio della chimica igiene personale rivoluzione industriale medicina nuova cioè l'umanità se ha la capacità arriva a un margine che si chiama margine del caos chiamiamolo così dove le state sono due o cadiamo giù come nel corso della pezza di Giustiniano oppure facciamo un salto in avanti ora siamo in questo in questa fase ma rendiamoci conto che questa fase non è una fase breve questa fase è cominciata agli inizi del 2000 2006-2007 durerà 100 anni non dobbiamo immaginare che tutto quanto si risolve domani queste sono cose che non possono essere misurati col tempo di internet vanno studiate col tempo della storia e quindi a maggior ragione bisogna studiare la storia e quindi bisogna studiare la storia studiare i comportamenti può aiutare a capire a dire ah oibo guarda un po' che facevano nel 600 a un certo punto tutto il mondo si pensava che il creato fosse stato creato da Dio e fosse tutt'uno con la natura e per esempio Brunetto Latini chiacchierava con la natura e parlava di Dio perché Dio è il creore della natura arriva uno come Spinoza e dice no la natura è una cosa e Dio è un'altra cosa sono due cose separate la natura va studiata in un modo e Dio va studiata in un altro modo e nasce un mondo completamente nuovo nasce l'epoca della sperimentazione scientifica è il grande salto dell'umanità che ora è in crisi chissà chissà se saremmo in grado di fare questo valore ora bisogna creare nuove metafore un nuovo paradigma bisogna creare delle nuove metafore che consentono a questa nostra società di mutare schemi e di trovare delle nuove metafore sulle quali si reggerà il mondo che spero che non siano quelle di Putin che non sperano che siano quelle cinesi che siano delle cose che l'Europa ha avuto la capacità di creare innovazione culturale innovazione tecnologica eccetera oggi mi sembra che arranchi ma ha ancora le potenzialità per fare questo bene mi piacciono i messaggi positivi come dici? mi piacciono i messaggi positivi ma io sono napoletano sono positivo non potrei essere altrimenti sennò sarebbe una tristezza pensare a questo mondo come una cosa ho una figlia di 15 anni se devo pensare che questo mondo come una cosa negativa è la prospettiva di come si debba immaginare il futuro tremo invece ho la storia che mi dice che non è così bellissimo bellissimo quindi io invito tutti coloro che ci hanno ascoltato che vedranno poi nella giornata perché la storia sta a 24 ore ad acquistare se possono in qualche modo no che devono non è che devono acquistare siccome è abbastanza problematico acquistare i libri in questo momento se ci riescono ma è vero Eva che dicono che riapriranno le librerie dopo il 15 questo non lo so però si leggevo una cosa sul giornale oggi c'è questa proposta di riaprire le librerie che sarebbe un bel segnale per il paese sì anche perché è così è stata tolta proprio la cultura bravo e secondo me questa questa crisi che stiamo vivendo non può essere superata senza la cultura brava brava concordo concordo pienamente la gente va nel panico senza potersi senza cultura senza potersi poter leggere senza potersi informare che non tramite internet o tramite giornali la gente va nel panico un panico ulteriore rispetto a quello che già sta vivendo che già c'è brava stiamo tutti vivendo qualcosa che non capiamo perché le pestilenze sono qualcosa di molto lontano da questa società così diciamo così dorata perché la società nella quale viviamo 80 anni senza guerra circa assolutamente questo è il primo grande shock è il primo grande shock dopo 70 anni è il primo grande shock e quindi non quindi ha bisogno di poter di potersi aggrappare a qualcosa assolutamente la cultura a un nucleo sicuramente ad un nucleo ad un nucleo che è secondo me quello appunto come hai detto tu leggere i filosofi spinosa giordano bruno oppure leggere i libri di storia e secondo me questo vostro che avete questo tuo libro i nemici degli italiani che fa questo percorso lungo tutta la penisola diciamo così la storia della nostra penisola secondo me fa riscoprire un po' l'unità quello che è l'unità nazionale perché non siamo così diversi è più bello pensare né a nord né a sud ed è più bello pensare un'unità a sud a nord di come è stata gestita questa crisi in realtà siamo tutti italiani siamo tutti no perché il rischio come scriviamo nel libro alla fine con Alessandro e il rischio è che diventiamo noi nemici di noi stessi non conoscendo la nostra storia non avendo idea di come nasca la nostra tra virgolette identità ci fa diventare i nemici di noi stessi è quello che è successo in Italia negli anni 50 60 70 con la grande emigrazione dal sud verso il nord oggi gente che è venuta negli anni 50 è perfettamente integrata nell'ambiente voi lo sapete meglio di me perfettamente integrata perfettamente anzi casomai fa pure il discorso di cia vengono i negri da fuori ci vengono perché ormai sono talmente integrati che hanno perso memoria di quella che poi è stata invece la loro storia personale o dei loro genitori sì io ho degli amici calabresi persone che adoro che sono fantastici però per esempio non riescono a stare in Calabria più di una settimana ma certo perché non si riconoscono nel sono talmente ormai lombardizzati io quello che dicevo insomma l'ho vissuto anche direttamente in famiglia ho parenti che sono nel nord Italia loro venivano negli anni 60-70 una settimana gli piaceva gli piaceva pure erano anche felici di farlo però dopo una settimana dovevo tornare nell'ordine nell'organizzazione del nord se no non riuscivano non riuscivano io saluto Arcangelo che è un caro amico che in questo momento mi sta scrivendo che è un caro amico bravissimo d'altronde un promettentissimo futuro storico veramente bravo a cui faccio veramente migliauguri in questo momento qua Eva che altro dirci? come? che altro dirci? che altro dirci? che io ti aspetto di nuovo a Seregno guarda quando vuoi sempre con grande piacere un abbraccio a tuo marito forte e in bocca al lupo per la libreria che ti parta alla grande speriamo siamo attivi con le consegne a domicilio quindi qualora qualcuno volesse questo bellissimo libro che io vi consiglio i nemici degli italiani di Amedeo Feniello scritto edito dalla terza qui qualcuno ti scrive a me non mi saluti sì ti saluto ciao ciao sì sì il reattore Sansone figuriamoci un po' se non lo saluta di cui domani è anche il compleanno quindi lo diciamo pubblicamente domani facciamo gli auguri in diretta ecco facciamo a tutti gli auguri di buona Pasqua soprattutto a voi a tutti quanti grazie per questa chiacchierata grazie a te e ti aspettiamo a Seregno a prestissimo a prestissimo un abbraccio forte auguri ecco una cosa lo dico anche a te come Alessandro lo sa già il 27 ottobre c'è un compleanno importante quindi 27 ottobre bisogna essere tutti qua perché facciamo una grande festa per Franco Cardini ah che è il compleanno mica fa 80 anni no fa 80 anni sì no già arrivano 80 anni pensavo che l'avesse Mino pensavo che l'avesse Mino pensavo che l'avesse 76 77 no 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 fa 80 anni li fa ad agosto però non si può festeggiare ad agosto quindi abbiamo trovato questa data al 27 di ottobre no il maestro l'ho omaggiato subito figuriamoci un po' esatto hai fatto bene a dirmelo perché no ma devo ricordare poi gli faccio gli auguri seri per bene agosto gli faccio gli auguri per bene perché è una grande data e lui è una grande testa una delle poche grandi teste pensanti che abbiamo va bene grande festa grande festa con grande piacere t'abbraccio allora un abbraccio buona Pasqua buona Pasqua buona Pasqua a tutti allora io invito tutti gli ascoltatori alla diretta che faremo domani alle ore 18 invece adesso chiudo io grazie a Casa La Terza e ci rivediamo con i librai la settimana prossima ciao a tutti e domani ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti